Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, Mr. Affetti Brianza e ti porto in visita in un appartamento trilocale arredato completo di cantina, adesio in zona spaccone. Ingresso su disimpegno, antibagno con postazione lavatrice e bagno con sanitari e doccia. Tapparelle elettriche e predisposizione all'aria condizionata, zona giorno con soggiorno con cucina vista, cameretta o studio con porta finestra e zona da allestire come cabina armadio, camera da letto matrimoniale con letto contenitore e ampia armadietura. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.deiseo.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittipianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza! Per la cultura dell'affitto visita il blog www.deiseo.com www.deiseo.com